Nel corso della permanenza di Roberto Roberti nella casa del grande fratello, si è parlato molto della complicità che sembrava legarlo a Vladimir Luxuria. I due hanno spiegato di essersi conosciuti durante una serata dell'opinionista. Le frasi lasciate in sospeso e le frecciatine tra i due, però, ben presto hanno alimentato le voci di una presunta omosessualità del GFino. In questi giorni, Roberto ha voluto fare chiarezza. Intervistato da Reality Show, ha spiegato di essere eterosessuale e di non aver avuto alcun flirt con Vladimir. Di lei ha detto, io sono venuto a conoscenza dell'esistenza al mondo di Vladimir Luxuria nel 2000. Ero con amici ad una serata che aveva organizzato lei al Mucca Assassina. Durante la serata sale sul palco con un cappello gigante. Ho subito apprezzato il suo personaggio grazie ad una simpatia esagerata e alle sue battute pungenti. Mi è piaciuta la sua libertà e l'essere ironica, anche, con se stessa. In queste ore, però, ha rilasciato una nuova intervista. Sta al programma di Giada di Miceli, non succederà più, su Radio Manam Mana. Roberto è tornato a precisare le dinamiche del suo incontro, con Luxuria, dicendo di non comprendere la motivazione alla base delle allusioni dell'opinionista. Queste allusioni sono mezze verità, anzi menzogne. Ho visto Vladimir tanti anni fa, durante una manifestazione, ma non l'ho mai conosciuta. Perché lascia intendere qualcosa di diverso? Se non è vero, perché dirlo? Non so come funzionano le dinamiche della televisione, ma non capisco. Solo una volta uscito dalla casa, si è reso conto della risonanza mediatica, che la cosa aveva avuto. Per forza nego, non è vero. Ho pensato, che fosse uno scherzo. Poi però, una volta uscito, ho visto notizie ovunque, la cosa si è gonfiata molto, ci hanno gieccato molto. Non ci sono rimasto male, per la presunta omosessualità, mi ha dato fastidio la mancanza di trasparenza. Se le persone credono a Vladimir, io posso apparire poco trasparente. Ribadisco, che se domani mattina mi alzassi, e mi innamorassi di un uomo, non farei patica ad esternarlo, perché sono libero. Ha messo, dunque, la parola fine ad ogni insinuazione. Roberto ha specificato di non avere mai avuto rapporti, con una persona del suo stesso sesso. Sono, però, non ho mai avuto esperienze, con uomini. Queste voci, queste bugie gratuite, senza motivo, non mi piacciono. Farmi passare, per uno che ha una doppia vita risulta una sorta di omofobia al contrario, come fosse una roba di cui vergognarsi. Se insinuano queste cose, sono loro gli omofobi. Roberto spera, infine, di avere un confronto, con Vladimir Luxuria. Ho paura del continuo gioco di Vladimir, se mi faranno fare un confronto, con lei, dirò queste cose, ma poi sarà la mia parola contro la sua. Un gioco meschino, che non mi piace, non capisco. Non voglio apparire come non trasparente, non mi piace apparire così. Chi se ne frega.